buongiorno a tutti ben ritrovati a sky tg24 business e dunque riproviamo a fare questo tentativo di normalità che speriamo porti porti bene con l'invito rivolto a voi ma anche a me stessa perché appena finisco torno a casa di stare a casa partirei subito dal nostro sommario che come avete visto anche dal nostro palinsesto gli occhi sono concentrati soprattutto sull'europa puntati sull'europa e quindi parleremo di questo all'interno degli approfondimenti guarderemo anche alle borse che tentano di fatto un rimbalzino rispetto ai cali di ieri e poi ai prezzi del petrolio perché vedo qui dai miei monitor che la situazione comunque prosegue con molta incertezza guardando al petrolio Brent il calo è del 7,45% sapete che si monitorano due petroli chiamiamoli così uno è il WTI quindi estratto dal Texas occidentale si chiama così per questo WT sta per Texas occidentale e che viene utilizzato come punto di riferimento per i prezzi del petrolio a livello globale l'altro è il Brent estratto dal mare del nord che tutto sommato negli ultimi tempi resisteva di più in quanto a prezzi rispetto al WTI perché il primo quello americano aveva proprio problemi di stoccaggio le cisterne di stoccaggio sono quasi piene ed è questo uno dei motivi che ha scatenato il crollo dei prezzi. Il Brent invece sembrava reggere quest'oggi è in calo di circa l'8% in questo momento mentre invece vedo che il WTI fa segnare un più 2,90% teniamo sempre queste notizie sullo sfondo perché al petrolio si continua ovviamente a guardare visto che il problema rimane lo stesso il forte calo della domanda è inutile che si tagli la produzione per sostenere i prezzi del petrolio come vi stiamo spiegando in questi giorni perché sembra che questi tagli non bastino la domanda è davvero in calo a causa di covid-19 e davvero non sembra che si trovi la quadra vedremo cosa faranno OPEC Arabia Saudita nel particolare se si taglierà ancora la produzione vedremo anche cosa faranno gli Stati Uniti perché finora hanno parlato ma di fatto la loro produzione non l'hanno tagliata e ci concentreremo ovviamente sull'Europa quest'oggi come vi dicevo domani davvero occhi puntati sul Consiglio Europeo io vi ricordo che prosegue il nostro approfondimento ultima chiamata dalle 13.30 potrete trovare tutte le ultime novità relative a questo ma anche noi parleremo ovviamente di Europa perché gli investitori guardano a quanto domani decideranno i leader e i capi di Stato europei io direi quindi prima di continuare con gli approfondimenti relativi al Consiglio importantissimo di domani di cercare di fare il punto sul dove siamo e lo facciamo come di consueto con il nostro corrispondente da Bruxelles Roberto Talley Un fondo per la ripresa che possa raccogliere risorse sui mercati attraverso l'emissione da parte della Commissione Europea di titoli garantiti dal bilancio comunitario e al momento questa l'ipotesi su cui ruoterà la discussione al Consiglio Europeo di giovedì un'intesa di principio tra i 27 sulla creazione del fondo dovrebbe essere raggiunta ma il vertice non sarà risolutivo perché serviranno ancora settimane di negoziazioni sui dettagli niente euro bond dunque titoli che sarebbero garantiti da tutti i paesi membri ma comunque uno strumento di finanziamento che si baserebbe su risorse comuni e che riuscirebbe a convincere anche le capitali finora più riottose toccherà poi alla Commissione Europea il 29 aprile presentare le specifiche del piano legandolo alle già complesse trattative sulla dimensione del bilancio europeo per il prossimo settennato trattative che a gennaio in epoca pre covid avevano visto già profonde spaccature tra i 27 per l'Italia è fondamentale che si faccia in fretta e che l'uso delle risorse rifletta le diverse specificità dei paesi più colpiti si punta un fondo da mille 1500 miliardi risorse che l'Europa poi userebbe per finanziare prestiti ai singoli stati membri a tassi vicino allo zero e con lunghe scadenze prestiti che però impatterebbero sul livello di debito nazionale per questo l'Italia spalleggiata da altre capitali a partire da Madrid ambirebbe anche a una quota di trasferimenti a fondo perduto le trattative dunque necessiteranno di ulteriori settimane chiudere entro giugno verrebbe considerato già un successo per questo per l'immediato ci sarebbero gli altri tre strumenti messi a disposizione dall'Europa la banca degli investimenti la cassa integrazione europea e il fondo salva stati per le spese sanitarie intanto proprio sulla nuova linea di credito del mess il presidente dell'euro gruppo centeno rassicura niente troica e niente condizioni nascoste tra due settimane sarà pronta per chi vuole attivarla roberto tallei sky tg 24 brussel è il problema è proprio quello della fiducia come vedremo anche negli approfondimenti di questo parliamo e su questo ci concentriamo e quindi io do il benvenuto a claudia segre presidente global thinking foundation e a gialluca codagnone di fidentis grazie entrambi per essere con noi questa mattina grazie grazie a voi grazie inizierei con lei claudia innanzitutto un commento cos'è che si aspetta dal consiglio europeo di domani sicuramente l'ipotesi spagnola riguardante il fondo europeo di diciamo così di solidarietà una sorta di piano marshal europeo che fa riferimento ai fondi strutturali 2021 2027 e la soluzione nelle corde del consiglio europeo e che non viola o non crea problemi con i trattati firmati quindi sicuramente questa è l'opzione che dovrebbe essere validata entro la fine del mese di aprile gialluca è d'accordo sì è una delle opzioni non saprei dire veramente domani cosa si deciderà e mi sembra che comunque in in questi casi tutte le regole che sono di solito usate nelle situazioni ordinarie saltino e quindi qualcosa dovrà cambiare anche profondamente secondo me quando quando diciamo qualcosa dovrà cambiare gialluca lei intende evidente quanto ha detto merkel non ha davvero usato mezzi termini condivisione del debito niet in questo momento non c'è ancora questa ipotesi che si condivida il debito tra gli stati la cosiddetta mutualizzazione che poi significa che ognuno è garante dell'altro come sapete quindi si condivide anche il debito e l'ipotesi appunto che si possa creare questo fondo e possa essere elargito ai paesi tramite quello che l'unione europea già fa non avendo autonomia fiscale utilizza proprio i suoi fondi strutturali e un'ipotesi su cui si sta lavorando secondo voi è che potrebbe stare in piedi inizio con lei gianluca beh sì ci sono tanti modi di erogare fondi e anche di diciamo così contro garantirli in un meccanismo coassicurativo dove gli assicurati sono anche assicuratori il design tecnico non è particolarmente complicato claudia si si proseguano come scusa claudia pensavo che avesse finito già luca prosegua no 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 dicevo il design tecnico non è particolarmente complet complicato ci sono tanti modi anche io thomas manfredi e carlo alberto carnevale ma fe ne abbiamo proposto uno non è questione delle alternative a disposizione che sono parecchie questione che di una volontà politica e soprattutto nel mettersi d'accordo poi sulla governance di come verranno usati i soldi certo questo secondo me è il punto più difficile da da smarcare molto c'è da dire che per esempio anche la germania che come sapete insieme all'italia tra l'altro e ad altri è contributore netto questo vuol dire che da a brussel più di quanto riceve in termini di contributi è perché poi come vai a quantificare quanto riceviamo per esempio dal mercato unico e dallo scambio delle merce delle persone da quello riceviamo no come lo quantifichi è ovvio che non si può quantificare però rimaniamo sui soldi rimane contributore netto la germania quanto mette contributore netto per esempio nei sussidi di agricoltura non riceve niente perché riceve quasi tutta la francia quindi mi chiedo in vista appunto di una cornice del genere anche sul fronte dei fondi relativi al coronavirus potrebbe ricevere più un paese di un altro a seconda della necessità o no claudia sì esattamente come nel discorso del quantitative easing rafforzato in questa fase dove evidentemente chi ha più debito e non essendoci più le capital key oltretutto è ovvio che l'intervento della bce si fa molto più sentire sull'italia che su altri paesi anche se adesso i paesi periferici nell'incertezza della conferma dei rating stanno allargando i loro spread ma quello che è il punto nodale è che tutte le misure che avete delineato e che stai appunto facendo state facendo vedere sono più che sufficienti se si chiarisce una cosa che i soldi non possono essere dati a fondo perduto che non possono essere dati senza condizioni non possono essere dati se non ce n'è un uso provato esattamente come noi imprese fondazioni piuttosto che dobbiamo dimostrare come usiamo i soldi la stessa cosa deve fare il paese che utilizza i soldi dell'europa su questo non ci piove e nessun paese deve illudersi che possa essere diverso ci sono condizioni e condizioni no seguendo il motto est modus in rebus dipende da che condizioni uno chiede perché una cosa è una condizione lacrime sangue piano di come dire cercare di riaggiustare i conti di un paese alla greca diciamo così un'altra è che tu mi dica i soldi li devi spendere sulla sanità e non faccio un esempio in corruzione e li devi spendere bene e mi devi portare i giustificativi quindi come dire se ci sono dei soldi che vengono dati deve esserci anche un controllo affinché quei soldi vengano spesi nella giusta maniera già luca lei cosa pensa di questo non so solo in italia c'è questo dibattito surreale per cui ci sarebbero dei soldi che non vanno ridati indietro si possono spendere per che ne so coprire altre magagne cioè è una cosa che faccio fatica a commentare cioè non capisco né quelli che pensano che i soldi vengano dati a dei paesi che qualsiasi paese senza che poi vengano restituiti e mi chiedo quelli che pensano questa cosa se loro mai presterebbero i soldi in quelle condizioni a chi che sia certo e la seconda cosa che trovo allucinante è abbastanza anche ho anche perso il gusto di seguirla quando mai ce l'abbia avuto e di vedere tutto questo dibattito sulla condizionalità la condizionalità francamente è stata già abbastanza esclusa e casomai quando si parla di condizioni da rista da stabilire ex post credo che ci si riferisca per esempio a durate modalità di rimborso e certe cose di questo genere che che ancora non sono state completamente definite quindi non si tratta di condizionalità legate a mantenere degli indicatori di bilancio quanto quando si stabilisce un prestito si stabilisce anche quando si ridà indietro in che rate in quanti in che tempi eccetera eccetera quindi francamente non so cosa dire nel senso se su questa cosa su queste urla che si sentono soprattutto da una parte del parlamento sono francamente incomprensibili claudia sì infatti come dicevo il problema del dibattito italiano è un problema che non esiste le come detto qualsiasi mutuo qualsiasi impresa che ricevi soldi deve dimostrarne l'utilizzo e quindi da qui non si esce ma soprattutto quello che vorrei far notare che negli altri paesi c'è stata una comunione di intenti tra opposizioni e governo in carica per cercare di trovare delle soluzioni rapidamente qui veramente siamo partiti benissimo e sembra che adesso ci stiamo arenando su dei dibattiti sterili quando invece tutte le misure sono state messe in campo però se non c'è una comunione di intenti su utilizzo e sull'uscire dal lockdown rischiamo veramente di come come visto dal dato del fondo monetario internazionale avere il dato peggiore per la crescita prevista del prossimo anno meno 9 1 per cento sì infatti dati veramente del resto dati che certificano una situazione che stiamo vedendo è perché se siamo fermi non è che potevamo pensare che il pil crescesse chiedo a entrambi un ultimo commento prima di salutarvi e ringraziarvi perché stamattina c'è stato un appello rivolto ai leader europei affinché mostrino solidarietà più di quanto sia mai stato fatto lavorare per un'europa più forte il mercato unico come strumento centrale per superare questa crisi assicurare che tutti i paesi abbiano accesso al mercato per finanziare la ripresa a firmare la richiesta alla vigilia della riunione di domani importantissima sono gli amministratori delegati e i presidenti di grandi aziende anche perché i conti stanno rotolando giù per le scale della cantina e federazioni industriali d'europa a firmare questo accordo vedo che c'è anche mike moley che è l'amministratore delegato di fiat chrysler l'unica cosa che mi sento di dire in questo dibattito che vi ringrazio cerchiamo sempre di mantenere a politico e a partitico e obiettivo quello che vi chiedo però è un commento sulla rapidità di queste decisioni perché comunque c'è un mercato che chiede delle risposte piccole imprese che chiedono delle risposte cittadini che chiedono delle risposte non è che adesso dopo il 23 possiamo riaspettare 14 giorni ci vuole un po di coraggio un po come ha scritto anche il nostro direttore nel suo editoriale che ne pensate sì allora senz'altro un coraggio ma non possiamo uscire dal da quello che è il punto fondamentale dare delle regole chiare per riprendere gradualmente sin da subito l'attività delle imprese e portarci alla normalità ma non appunto tramite diciamo così stop and go ma quindi decisioni che vengono annunciate previste che fuoriescono diciamo dai canali ufficiali ma esattamente come è stato fatto in altri paesi europei e da qui si parla di solidarietà prendere questo esempio per dare delle regole chiare di uscita e di ripristino delle diritti dallo studio il lavoro e soprattutto dell'attività imprenditoriale fondamentale per la ripresa del paese ottimo e saluto Gianluca Codagnone che ringrazio per essere stato con noi di Fidentis grazie mille Gianluca e alla prossima arrivederci grazie grazie Claudia un ultimo commento sulla Cina con lei perché è importante vedere anche a quel mercato e leggevo stamattina e l'ho sintetizzato anche in una notizia che ho scritto qui nei miei appunti Pechino ha deciso sostanzialmente di chiudere tutte le palestre perché temono una seconda ondata di coronavirus e sono stati riportati nella giornata di ieri 30 nuovi casi la Cina a fatica si sta rialzando molti gruppi internazionali decidono addirittura di cambiare la loro composizione a livello globale per non concentrare la propria distribuzione, la propria catena diciamo che è la cosiddetta supply chain quindi la catena di questi gruppi a livello globale della produzione non solo in Cina visto quanto è accaduto c'è addirittura chi sta ripensando di portarla in Europa proprio per evitare che si crei il problema di febbraio è una cosa possibile Claudia secondo lei che i gruppi ripensino un po' alla propria catena di produzione riportandola magari sul vecchio continente o su altri mercati e abbandonando in qualche modo la Cina? Secondo me no ricordiamo che quanto è successo nella regione del Wuhan ha visto una regione di 60 milioni di persone in lockdown ma su una popolazione di un miliardo e 300 milioni di persone il resto del paese andare avanti e questa è anche forse una differenza nella valutazione che dobbiamo fare del modello adottato a Wuhan le imprese sicuramente modificheranno la distribuzione ampliando la loro presenza in Europa ma in quanto a produzione secondo me poche alternative ci sono a questo punto perché a capo o comunque a guida degli scambi internazionali troviamo degli attori di riferimento che sono appunto Cina, America e poi ovviamente Giappone e pochi altri a quei livelli quindi sicuramente sono degli annunci che sono più politici che nell'esercizio delle big corporate si mostrerà come una strategia Grazie, grazie mille a Claudia Segre Presidente Global Thinking Foundation Claudia, grazie e a presto e buona giornata a lei A presto E noi invece ci colleghiamo con il nostro collega del Sole 24 Ore Vito Lops che vedo già super pronto Vito, bentornato a Business in questa edizione Skype Allora Buongiorno a tutti, ciao Maria Angela Ciao Vito, ciao, che bello vederti Allora, qui ho una caterva di messaggi Vito, come sai, ci scrivete in tanti e vaderemo tutti i temi di cui ci state chiedendo prossima settimana per esempio intervisserò molti amministratori delle banche per chiedere loro se i prestiti sono davvero erogati oppure no e oggi però ci concentriamo sulle vostre richieste relative al settore immobiliare Vito, chiedo a te che cosa sta accadendo in termini semplici mi raccomando, dall'Attaio dell'Ohio sul fronte immobiliare Quali sono le novità in questo momento? In questo momento ovviamente c'è sicuramente sul fronte dei tassi di mercato ci sono delle condizioni molto vantaggiose per stipulare nuovi mutui e soprattutto nuovi mutui a tasso fisso perché sostanzialmente il tasso fisso costa quanto il tasso variabile e quindi è chiaro che se costa sostanzialmente lo stesso tasso è da preferire in quanto il tasso fisso offre un'assicurazione sul futuro rialzo dei tassi Ovviamente questa condizione di mercato irripetibile difficilmente verrà colta per chi vuole comprare un nuovo immobile perché si presenta nel momento in cui c'è anche molta incertezza sul futuro e quindi l'acquisto di un immobile, di una casa sia per abitarci ma anche per metterlo a reddito come è stato fatto negli ultimi anni in Italia in modo molto consistente e chiaramente necessita una visione ottimistica sul futuro quindi ci sono ottimi tassi ma c'è incertezza e quindi il mercato è bloccato Ecco, ci sono anche delle richieste sul fronte della surroga per esempio molti telespettatori chiedono è questo un momento ideale per fare la surroga di un mutuo? Secondo te è il momento e qualora la si facesse come la si deve fare? Questo è il momento ideale per fare la surroga del mutuo infatti il mercato si sta muovendo soprattutto sul fronte delle surroge che ripeto non si tratta di nuovi acquisti di immobili ma semplicemente di miglioramenti del contratto del precedente mutuo spostandolo presso un'altra banca che offre condizioni migliori a mio avviso la strategia più semplice da seguire per chi intende cambiare mutuo è quella innanzitutto di verificare quale tasso sta pagando sul proprio mutuo perché sembra banale ma molti lo dimenticano nel tempo poi andare a confrontare sul mercato quali sono in questo momento i tassi migliori che sulle stesse condizioni di debito residuo gli farebbero altre banche a quel punto se c'è una differenza di almeno 40-50 punti basso 0,4-0,5% e bisogna provare a chiedere innanzitutto alla propria banca di rinegoziare il mutuo, quindi di abbassargli il tasso senza cambiare banca qualora la banca risponde in modo negativo a quel punto si può provare anzi si deve provare a mio avviso la strada della surroga quindi spostare il mutuo verso un'altra banca che qualora accetti la pratica sarà essa stessa a contattare la vecchia banca per ultimare le procedure qualora faccia temporeggi e ostacoli il processo la vecchia banca dovrà corrispondere anche a una sorta di multa al proprio cliente chiarissimo, un'ultima domanda risposta flash Vito che riguarda invece perché chiedono giustamente ma quando chiediamo il tasso fisso c'è un tasso di media grazie al quale possiamo capire insomma se la banca ci sta dando un'informazione esatta o meno c'è un tasso di media che ci puoi dire in questo momento? Allora sicuramente oggi si possono stipulare multe al tasso fisso nelle migliori condizioni intorno allo 0,6% bisogna controllare non soltanto il tasso ma anche il TAEG che contiene anche altri eventuali oneri che le banche applicano sul prestito ma oggi i migliori TAEG appunto sono intorno allo 0,6% quindi questo è un po' il parametro da tenere in considerazione per eventuali operazioni di surroga Chiarissimo, grazie Vito, grazie a Vito Lops ti ritroviamo sul sole, anzi invito a leggere i suoi articoli perché sono sempre accurati grazie Vito davvero e quindi mi raccomando tenete presente questo livello 0,6% lo avete sentito vi lascio con quest'ultima notizia che oggi scrive MF che è interessante perché dice crack bancari entra lo Stato e l'unico giornale che stamattina dice questo e questo è interessante perché presuppone una sorta di nazionalizzazione nuova nei confronti di alcuni settori italiani tra cui appunto quello bancario la mettiamo lì come spunto di questo poi parleremo anche nei prossimi giorni quindi approfondiremo questo argomento io vi ringrazio per averci seguito vi invito ancora a scriverci e a riportarci le vostre istanze ne parleremo anche qui in trasmissione grazie ancora e alla prossima buon proseguimento grazie a tutti